Una comunità virtuosa che può ambire a risultati sempre più lusinghieri e a divenire vero e proprio modello guida nel contesto territoriale sul piano della raccolta differenziata e del decoro urbano. Questo l'auspicio del sindaco di Mendicina Antonio Palermo in occasione della consegna e installazione degli ecobox per la raccolta di carta e multimateriale all'interno degli uffici comunali, effettuata dall'azienda Ecoros, gestore del nuovo servizio di igiene urbana. L'attività preceduta da un incontro in piazza municipio con i dipendenti comunali, primi destinatari della formazione sulla nuova organizzazione del servizio, rappresenta la tappa zero del nuovo percorso con l'obiettivo di realizzare a pieno il progetto raccolta differenziata 2.0. Vogliamo che Mendicino continui nel percorso avviato nel 2014 e soprattutto che faccia ora un salto di qualità. Con la mia amministrazione è partita la raccolta differenziata per la prima volta nella storia della nostra città. Oggi vogliamo invece che quel percorso diventi ancora più innovativo, ancora più avanzato, che i servizi di igiene urbana rendano la nostra città ancora più pulita, ancora più decorosa di come già è oggi. Siamo convinti che questo percorso lo possiamo fare bene e meglio grazie alla collaborazione con Ecoros, che ringrazio, ma soprattutto con il protagonismo dei cittadini. Un grazie a tutti i nostri uffici comunali, i nostri dirigenti, un grazie alle maestranze di Ecoros e un invito ai mendicinesi a far sì che il desiderio del loro sindaco, che poi è il desiderio di tutta l'amministrazione, di tutti coloro i quali lavorano per questo grande obiettivo, sia quello di rendere Mendicino una delle cittadine più virtuose sul tema della raccolta differenziata, dell'igiene urbana in tutta la nostra regione e forse anche nel sud del nostro paese. Oggi questo è stato uno dei primi step appunto nel luogo istituzionale, ha conferma che le buone pratiche sulla raccolta differenziata devono essere protette proprio dall'ufficio competente, devono essere da qui portate avanti proprio quale esempio, che appunto le buone pratiche partono proprio dai luoghi istituzionali. Nel corso dell'incontro sono intervenuti anche il segretario generale dell'ente Pietro Manna, il quale ha sottolineato la volontà di imprimere una vera e propria svolta attraverso un preciso indirizzo politico e amministrativo. E' il direttore esecuzione e contratto Francesco Lavalle che ha invitato i cittadini alla massima collaborazione. Molto importante la sinergia che si può creare tra comune, gestore del servizio e cittadini per fare in modo di poter solo esclusivamente migliorare la qualità dei nostri servizi e per cercare di raggiungere qualità e quantità di un servizio molto importante. Molto importante perché è lo specchietto di una comunità pulita, una comunità attenta alle regole, una comunità che sa svolgere per bene la raccolta differenziata e che quindi ha un occhio puntato sull'ambiente. Mendicino è già una comunità virtuosa, il che rappresenta motivo di stimolo e di orgoglio. Un insediamento importante è quello della comunità di Mendicino che confina con città capoluogo di Cosenza in cui sin dall'inizio abbiamo registrato ottimi risultati proprio in termini di partecipazione da parte dei cittadini. Ragion per cui non si parte da zero, una comunità virtuosa, quindi tanto è lo stimolo quotidiano a fare tanto e a fare sempre di più. Ci siamo insediati il 1 agosto e abbiamo iniziato con allestire il cantiere, con investimenti importanti in termini di personale, automezzi, attrezzature varie. Da lì la ricognizione del territorio, le prime attività di pulizia straordinaria, di bonifiche e quant'altro. Abbiamo fatto in modo che al rientro dalle vacanze i cittadini di Mendicino trovassero la loro città più in ordine. E così è stato fortunatamente. Infatti tanti ringraziamenti e tanti gli stimoli a lavorare bene nel perfetto stile Ecoros. Dopo gli uffici comunali, gli ecobox saranno consegnati e installati presso tutti gli uffici presenti sul territorio. Poi si procederà alla consegna delle nuove attrezzature a tutte le tipologie di utenze, con contestuale attività di informazione e sensibilizzazione a cura delle informatrici ambientali appositamente formate da Ecoros. Insomma, tanta innovazione, tanta rivoluzione, attrezzature nuove e anche tante novità nell'ambito dei servizi e accessori, poiché sono previsti nuovi cestini getta carte per la raccolta differenziata, per le deiezioni canine. Preferisco lasciare un accenno di curiosità, poiché tutto questo che abbiamo anticipato oggi convergerà in un evento pubblico, pandemia permettendo, nel corso del quale saranno illustrate appunto tutti i dettagli. Grazie a tutti!